ciao ragazzi vediamo un video oggi saluto anche jacopo ciao jacopo oggi facciamo un video dove ci ricordiamo su precession 4 la prima volta ragazzi questo video marco si racconta un nome un nome al caso vabbè un nome al caso vabbè un nome al caso vabbè è a due e allora il primo video l'ho fatto lui allora qui a me la chiesse magari se mi vai allora a me la chiesse un fan ma siamo quando vai un video reaction i miei vecchi video non lo so perché mi hanno chiesto il ragazzo poca ma quando mi chiesto un bambino sull'area sull'area proprio qua e non faccio i miei video mia se no se no so casini cioè so casini proprio ragazzi e allora 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 andiamo a vedere gioco un po' più sull'area dove 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 ecco qua jacopo c'è un canale youtube se voglio andare a vederlo andiamo a Che cosa è rimbo? È un gioco di quella di gatti. Andiamo a chiamare. Dai, oggi si fa cammini. No, a petto, a petto. No, a petto, a petto, a petto, a petto, a novera a petto. Non mi sono preghiato, con la famiglia che ho portato. Ehm, come chami? Allora, a piga, ma che siamo così. Cos'è un momento meglio. Bebino. Nogno 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 Non era quello, era il porco, il porco di riso, che clicca a caso, eh, facciamo così che è meglio, ok, guarda, aspettare, che ho fatto seccano, allora, allora, un minuto di video, il sanguatore, o io era, scusate, ecco qua, questo ragazzi, questo ragazzi, l'ho fatto, perché, la serie con Jacopo, perché volevo fare una serie con Jacopo, volevo fare una serie con Jacopo, perché è il mio amico, è il mio amico del cuore, è il mio amico del cuore, se parte il video mannaccia a Dio, ok, e, questo è un video, c'era, 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 pure Matteo con me, facciamo così, la posta con Dio, e, questo video è arrivato, accettami il like, è arrivato, e, se volete, in altri video, questa roba arriva, sì, lascia i dati like, e, oh, Matteo, non c'era lesbica, ma è, ma è, ma è, ma è, ma è, ma è, e oggi, e oggi, facciamo bella, va, in gas, un rito, insieme, a queste persone carine, ecco, alle Io ragazzi non l'avuto così da un amico, si parlo a verlo, cioè io, io, Giacomo se sei, guardando questo video, io ti voglio dare un abbraccio, un abbraccio, un abbraccio carissimo, io veramente non ho parole, io veramente, questo video mi fa morire, Gari sa che io, Giacomo, Giacomo, grazie, 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 mi ha fatto rire, mi ha fatto morire Gari sa che io veramente mi savo se ero male a questo video, e quando mi sa, mi sava salire il bosco, poi accetto il problema, sono incansante, è peggio, grazie Giacomo, i consigli uva che mi dai, io veramente non ho parole, grazie Giacomo, io veramente, guarda questo video per favore perché piangerai nel cuore che io, che io forse quando arriverò a casa Ua, Carlo Sagra ti abbraccio a casa, ti abbraccio e farò un video dove, dove ci abbracciamo, ci abbracciamo, perché Giacomo sei un mio fan che ci siamo conosciuti, più che altro tempo, e anche su Giacomo, ci siamo massaggi, anche su WhatsApp, e anche sui social, e anche a Parco, ci siamo dati per gli ighi, anche con Malware, ci siamo massaggi, non è bello a piangere perché piangerebbe un video dal video mio, e grazie, grazie Giacomo, io non ho parole per iscrivere di questo video, grazie, 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 guarda questo video, buona missione Giacomo, ciao, buona missione. Giacomo. Come cazzo parlo, come cazzo parlo, come cazzo parlo, poi faremo anche FIFA 16 e anche 18, poi ragazzi, poi ragazzi, poi ragazzi, seguiamo il mio like, Jacopo, si fa, si fa la un poco, poi, poi esse va addizzo, bravo, ammazzo coi cane. e poi ragazzi anche se volete Mawel lasciare i gommetti Mawel lasciare i gommetti perchè sennò si è che buffo ma si è buffo quello che ho fatto con chi ma cazzo ma cazzo occhio ai gara occhio eh ma Iacobo che cazzo sta facendo? mazza che mica oh porco tu ma come te chiamano? ma morto che mogno niente sono morto ma perchè sono morto vabbè Iacobo questo era un video era un video bello io mi sono di rilasco grazie di cuore mettessi un like a questo video grazie a tutti e Ciao Iacobo Grazie.